E ora la rubrica emersioni da Buongiorno Regione con le storie di chi in tempi di crisi si è inventato una professione. Allora oggi vi facciamo conoscere il primo addestratore di cani anticimici. Vediamo con Valeria Radiconcini. Lui è Aran, pastore belga Malinois e sta dando la zampa al suo padrone addestratore e medico veterinario Paolo Masini. Con la sua guida il cane ha allenato il fiuto a scovare dove si annidano dei piccoli quanto infestanti parassiti che pungono l'uomo, le cimici dei letti. Molto diffuse ma poco conosciute, questi insetti sanno nascondersi quasi ovunque, anche in ambienti non necessariamente sporchi, in attesa di uscire di notte per pungere creando reazione allergica. Masini sa trattare numerosi tipi di insetti e parassiti ma si è fatto una lunga esperienza di studio e laboratorio per capire come scoprirle. Dopo la laurea in medicina veterinaria mi sono occupato di insetti e acari patogeni per l'uomo e per gli animali facendo ricercatore. Contemporaneamente in quegli anni la cimice dei letti diventava un parassita emergente e in virtù di ciò decisi di specializzarmi sulla lotta biologica contro questo insetto. Poi nel 2008 appresi per la prima volta che in America utilizzavano dei cani per la ricerca olfattiva di questo insetto e quindi decisi di portare anche qui in Italia questa idea che ritenevo vincente. Nel 2011 dopo alcuni anni di ricerca e di sperimentazione abbiamo addestrato e certificato il primo cane anticimici in Italia. Insieme ai suoi due cani Masini compie interventi in tutta Italia, in alberghi, treni e navi. Gli animali addestrati come in un gioco riconoscono un particolare odore non percepibile dall'uomo che le cimici emanano e ne segnalano la presenza. L'intesa animale padrone fa il resto. Il consiglio mio è quello di specializzarsi, di credere nel proprio percorso e di trovare all'interno di questo percorso delle nicchie in cui potersi specializzare e in cui poter operare come esperti. In maniera tale da avere più mercato in un momento in cui la situazione non è semplice.